buongiorno buongiorno dal dottor claudio seracino da benessere ipnosi soluzione dcs l'ipnosi dcs vera e professionale oggi parliamo di quest'audio molto potente dal titolo non mal di testa no emicrania se tu da anni anno rumai questo problema come ce l'ho avuto io per tantissimi anni e mi dicevano che avevo preso da mia madre e voi qualcosa di naturale soltanto parole dcs create ad arte ad hoc bene scarica di quest'audio dcs del dottor claudio seracino molto potente e meravigliati del miracolo della tua stessa mente ti prego di non credermi ti posso garantire che centinaia e centinaia di persone nel mondo anche con un solo audio con questo audio mp3 dcs dal titolo non mal di testa no emicrania hanno risolto il loro problema seguendo alla lettera le istruzioni molto facili alla prova di un nonno alla prova di un pigro alla prova di un idiota come funziona devi seguire l'istruzione e non pensarci perché l'ipnosi dcs funziona anche per chi non vuole o chi non può essere aiutato e sempre a fin di bene e sotto la tua responsabilità non ci sono effetti secondari indesiderati non c'è nulla di manipolativo sono solo parole semplici pulite trasparenti comprensibili però create ad arte ad hoc che guideranno il tuo subcosciente a fare il miracolo della tua stessa mente se rifletti il mal di testa l'emicrania non sono altro che un sovraccarico di pensieri negativi che provengono dal passato negativo perché io ad esempio a casa mia da piccolino avevo mia madre che soffriva spessissimo di mal di testa cronico è logico che devi sempre andare dal tuo medico curante allo specialista della tua salute pubblica della salute psicofisica perché sono loro i responsabili per vedere prima di tutto che non ci sia nulla di grave organicamente ma una volta che tu hai constatato con il tuo medico che tutto è a posto bene perché non utilizzare delle parole semplici pulite create ad arte ad hoc che provengono direttamente da los angels beverly hills questa è la domanda che devi porti per te e anche il tuo caro perché nel sottoscritto negli associati né l'editore noi non facciamo diagnosi né terapia in alcura è un'integrazione di parole potenti create ad arte ad hoc che ripeto ancora una volta guideranno la tua mente a fare il miracolo della tua stessa mente ora i due strade rimanere dove sei oppure cambiare cambiare come ho fatto io adesso sono libero dal 2008 ad oggi non ho più mal di testa cronico e grazie all'ipnosi vera professionale di los angeles baby hills solo a te la scelta va bene quindi scaricati questo audio mp3 dcs dal titolo non mal di testa a noi mi crania dal sito della mia associazione i prologi associati los angeles baby hills che gestisce gli audio mp3 dcs e poi mandami una bella video testimonianza che serva anche agli altri per cambiare in meglio la loro vita per il proprio bene e per il bene dei loro cari visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com la mia fan page su facebook ipnosi autipnosi dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni dcs il dottor claudio saracino e fascia il condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita e seguimi anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni dcs il dottor claudio saracino un bacio un abbraccio alla prossima ciao